Il derby del Tortellino non c'è stato, nel senso che sia Gastone che Mario, che ringraziamo, sia lui che la sua mamma. Ciao Mario, ci ha parlato dei tortellini buonissimi, li abbiamo mangiati noi, però non abbiamo potuto fare il derby perché Mario e Gastone stavano male. Quindi il derby è semplicemente rinviato, anzi abbiamo altre persone che si sono aggiunte, tipo Matteo, che è un Matteo Selleri, che è un bolognese, quindi viene come Emiliano perché tifa per la Romagna e Gigi che tifa per la Romagna. Gli mettono la mortadella, il cappello. Oh questa mortadella. Anch'io partecipo, porto i miei. Anche Werther porta il suo sentirekero. Quindi è soltanto il derbyato, lo rifaremo, comunque metteremo in ogni caso le foto della serata sul sito, adesso nei prossimi giorni le metterò sul sito, quindi potrete vedere ugualmente come è andata la serata della scena dell'altra sera.